Sono 744 le pagine che costituiscono l'Atlante linguistico dialettale istro-sloveno, costruito su un questionario di 1524 domande. Si tratta del primo volume, al quale ne seguiranno altri due. L'Atlante linguistico istro-sloveno è la logica continuazione dell'Atlante precedente, dell'Atlante istro-veneto. Mi sembrava giusto allargare gli orizzonti, se posso esprimermi così, anche nel contesto sloveno-istriano, e presentare la varietà dialettale in 30 punti d'inchiesta. Il lessico viene presentato su ben 573 carte linguistiche. Tratta solo alcuni campi semantici come le condizioni meteorologiche, la geomorfologia, le usanze e le istituzioni, il corpo e le malattie. È un lavoro importante anche per la densità dei punti presi in esame al di sopra della media. Si nota molto bene il confine tra il dialetto istro-veneto e i sottodialetti del Risano e quelli savrini. Il lessico è ricco e variegato. È sempre un bene segnare e registrare questi fenomeni presenti in un lasso di tempo, in modo da poter più tardi rivederli e osservare i cambiamenti. Il dialetto sloveno-istriano è ricco di rumanismi provenienti sia dall'istro-veneto che dal triestino. Su un campione di 1500 parole possiamo riscontrare sicuramente un 30% di rumanismi che poi nelle zone che vanno verso la zona del Carso non sono più così tanto presenti e lo dimostrano molto bene le carte dialettali. Le parole non ci dicono niente, sono solo parole. Se mettiamo insieme queste parole, allora diciamo che possiamo costruire un'immagine più chiara, più ampia. Alla presentazione, arricchita dalla lettura di brani in dialetto e dalla musica di Marino Cragnaz, sono intervenuti molti degli informatori che hanno speso parole di elogio e riconoscimento alla ricercatrice, al suo ampio e importante lavoro.